Musica Vende le fedi inuziali per garantire gli studi ai propri figli. È una storia di povertà ma anche di amore e di coraggio, quella di Emanuele Zappulla, elettricista disoccupato da sei mesi, nonché segretario locale del popolo della famiglia, sposato da vent'anni con Sefora Guastella e padre di quattro figli di 19, 13, 9 e 4 anni, tutti iscritti a scuola. Zappulla che in curriculum vanta anche una laurea in scienze religiose ha lavorato come elettricista per una ditta che operava all'interno della raffineria fino al 2015, anno in cui è fallita a causa della crisi industriale a Gela. Da allora ha fatto tutto ciò che poteva per mantenere la propria famiglia, anche andare all'estero, ma da sei mesi non riesce a trovare lavoro, da qui la decisione di mettere in vendita i simboli del suo amore per poter finanziare gli studi dei figli. Nel 2015 la ditta per cui lavoravo è fallita, sono rimasto per più di anni in mobilità, poi ho fatto per un piccolo periodo il trasfertista, ma adesso da sei mesi che sono fermo in mobilità, mi danno circa 700 euro al mese e non riesco assolutamente a trovare delle soluzioni per poter sopperire alle spese mensili. Questo purtroppo mi ha portato a vendere tutto ciò che avevo di prezioso per poter investire sulla cultura, sui miei figli. Questo me l'ha insegnato mia mamma dopo la morte di mio padre, che ha investito tantissimo sugli ultimi tre figli, infatti ci siamo lavorati tutte e tre, dove investendo sulla cultura, sull'istruzione, sull'educazione soprattutto, perché quello che oggi mi sta mancando a questa società è l'educazione, non è tutto un territorio che nonostante essere istruito non si trovano soluzioni. Il fallimento della raffineria ha portato forti ripercussioni non solo a me a livello personale, ma a tante famiglie. Stiamo vivendo un periodo difficilissimo, difficilissimo dove la politica è assente, vedo che si gioca attraverso, si balla attraverso la giunta comunale, non riescono assolutamente ad avere la responsabilità o fare un'analisi dettagliata o seria di tutto quello che è la crisi attuale. Questo per noi è stato un motivo importante, il nostro matrimonio, noi abbiamo una credenza molto importante con la religiosità, ma abbiamo scelto il prezioso migliore che sono i nostri figli. Le fedi alla fine sono state importanti, il nostro sigilio rimarrà nel nostro cuore. Come la fa sentire ogni giorno essere senza lavoro e non poter fare tutto ciò che vorrebbe per la sua famiglia? Guarda che è molto difficile, anche perché confrontarsi con la società, i ragazzi di oggi, guarda il bullismo, si ci giudica per tutto quello che è in questo mondo del materialismo, dove non si dà vero valore alla dignità, alla cultura e a volte non dare le giuste risposte pure ai figli per contrastare questo non ne dà veramente fastidio. Però come ti dicevo, io ai miei figli oltre all'istruzione gli do grande senso all'educazione. I miei figli capiscono il grande sacrificio del genitore e questo spero che sia la salvezza del nostro territorio, veramente tanto saturato da tante altre difficoltà. Perché esiste il decreto legge del 2017 sulle intercettazioni? Questa è la domanda retorica. Che si sono posti i relatori dell'incontro in tribunale organizzato dalla Scuola Forense? È stato Attilio Bolzoni, giornalista di Repubblica, conosciuto ai più per le sue inchieste di mafia e per aver firmato il caporegapi a moderare l'incontro. Che sia una legge ipocrita e che voglia mettere bavagli a tutti è fuori di dubbio. Però è anche un po' un pasticcio perché le cose resteranno come prima. Questa rilevanza delle notizie dal punto di vista penale è un pasticcio perché una notizia può essere non rilevante in una fase dell'indagine e molto rilevante in un'altra. Poi il divieto di pubblicare le frasi tra virgolette è terribile perché può provocare delle interpretazioni che possono essere ancora più dannose della pubblicazione integrale e originale. Io credo che i giornalisti facciano bene a protestare, però i giornalisti dovrebbero anche riflettere su cosa significa fare giornalismo che non è raccattare le carte della Polizia Giudiziaria e del PM e poi mettersi la targhetta giornalista di inchieste. Il giornalismo di inchieste è un'altra cosa. Copiare le inchieste dei pubblici ministeri e della Polizia Giudiziaria è un'altra cosa ancora. Appungolato i presenti su alcuni temi che hanno riguardato la natura della Regge, è stato il Presidente nazionale delle Camere per ARI a rispondere per primo. Le intercettazioni sono un mezzo indispensabile per alcune indagini, ma devono servire solo a questo. e quindi è giusto che questo mezzo così invasivo venga limitato per ciò che è davvero utile e necessario. Per quanto riguarda la nuova normativa, è una normativa che si proponeva degli obiettivi condivisibili e invece, a mio modo di vedere, non raggiungono questo obiettivo e tra l'altro compromettono in modo significativo il diritto di difesa. Quindi l'obiettivo che si proponeva era corretto, le modalità per raggiungerlo no. Ad introdurre i lavori il giudice Giovan Battista Tona. Questa legge è uno sforzo che da molti è un po' giudicato incompiuto. In realtà per un corretto utilizzo delle intercettazioni ci vogliono una serie di dati che non vengono dalle norme. Una buona cultura investigativa, una buona cultura della tutela della riservatezza delle persone, una buona cultura dell'uso delle intercettazioni come strumento giornalistico. Non sempre c'è cultura e non sempre quella che c'è è buona. Nell'incipit è stato ricordato l'avvocato Emanuele Limuti, recentemente scomparso, per l'amore per la professione e la dedizione al lavoro e lo hanno fatto due allievi, l'avvocato Giacomo Vitello e l'avvocato Boris Pastorello. Tanti, troppi nuvulnus della riforma che sono stati rilevati durante il dibattito. La risposta del perché il decreto è stato fatto è da cercare altrove, oltre che nell'arrazio della legge. Troppe le contraddizioni velleitari, una sorta di vorrei, ma non so cosa posso fare, come ha detto il giudice Tona nel suo intervento. Già il rifugio nel meccanismo della delega è un indicatore importante. Chiudiamo l'ospedale di Gela. Lo propone provocatoriamente il gruppo consigliare del PD Gelese in una nota con la quale denuncia la situazione di estrema precarietà in cui verso oramai danni il nosocomio cittadino che dopo la riforma ospedaliera regionale serve un bacino di 150.000 abitanti assieme ai comuni di Niscemi, Butera, Riesi e Mazzarino. In una nota inviata al commissario dell'Asp di Galtanissetta, i consiglieri PD ricordano che il pronto soccorso, primo reparto d'emergenza del Nisseno con oltre 46.000 prestazioni annue, opera in turni massacranti con soli 4 medici in servizio su 15 in organico. La chirurgia lavora con appena 3 medici in servizio. La pianta organica di anestesia e rianimazione è ridotta al 50% e si interviene solo nei casi urgenti. L'unità di malattie infettive è chiusa da un anno, la nefrologia e la dialisi sono senza posti letto. La cardiologia non garantisce più prestazioni ambulatoriali, liste di attesa lunghe di mesi e tante altre insufficienze. A causa di carenze croniche che si trascinano da tempo, scrive il gruppo PD, l'ospedale non riesce più a rispondere alle esigenze della città e dello suo comprensorio con reparti alla limite del collasso organizzativo e pazienti che sistematicamente vengono trasferiti, sempre che si trovino ambulanze ed infermieri, in strutture private per buona pace di chi continua a fare denaro a causa di una sanità pubblica volutamente disastrata. Recenti ed inutili riunioni con le più alte rappresentanze politiche della città e della regione denunciano i democratici, hanno solo prodotto chiacchiere ed indifferenza. E allora, tenuto conto che questa situazione mette a repentaglio la stessa vita dei pazienti, se ne chiede l'immediata chiusura, così rendendo realizzata finalmente la volontà di chi vuole lasciare di Gela e del suo comprensorio senza alcuna possibilità di dare soccorso a chi chiede assistenza sanitaria. Chiudere il pronto soccorso? Trovo la provocazione del PD di pessimo gusto. La salute va tutelata in tutti i modi e con essa strutture e sanitari. Sono indignata, lo dice in una nota il consigliere comunale del megafono Sara Bonura. Nessuno, dice, si dovrebbe permettere di usare la parola chiusura, considerato il momento tragico che sta vivendo la nostra città. Bonura si pone degli interrogativi. Che fine hanno fatto i progetti del patto per il sud? Come mai ancora non sono state esploitate le gare? I lavori del portorifugio quando inizieranno e quelli del museo archeologico? Troppo facile dire chiudiamo. Bisogna lottare. E se le riunioni non sono servite a nulla, continua, vuol dire che non abbiamo gridato abbastanza. Uniamo le forze e facciamo sentire la nostra voce. A cosa servono, onorevoli senatori, se non fanno rispettare le nostre istanze? Anche loro sono cittadini gelesi. Oppure lo hanno dimenticato? Chiediamo un intervento immediato da parte del nuovo commissario dell'ASP. Non è più il tempo di attendere. Vogliamo fatti reali e concreti che facciano percepire a tutti i cittadini la volontà di potenziare i servizi sanitari del territorio gelese. E quanto dice il presidente della quinta commissione Ambiente e Sanità, Virginia Farruggia? Chiederemo al commissario un incontro al più presto, così da rappresentarle il lungo lavoro svolto dalla commissione, a volte con lo spirito di collaborazione e a volte con lo spirito critico, a seconda delle situazioni, ma sempre con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini. A poco servirà il recente intervento relativo al centro unico di prenotazione, se poi gli utenti dovranno attendere tempi lunghissimi per ricevere un servizio dovuto. 25 guardie venatorie rimaste senza lavoro dal 2014, da quando il servizio è stato privatizzato. Che cosa è successo? Io innanzitutto parlo per quanto riguarda le 25 guardie venatorie della provincia regionale di Caltanessetta, che lavoravamo fino al 2014. Dal 2014 in poi praticamente noi siamo rimasti senza lavoro e la provincia regionale di Caltanessetta è rimasta senza controllo venatorio e ambientale. Io parlo a conto dei miei colleghi perché non potendo lavorare uno non può portare praticamente i soldi a casa e noi sappiamo benissimo che non potendo portare i soldi a casa, non avendo uno stipendio, le tasse non le possiamo pagare. E poi parlo pure per quanto riguarda il territorio di Caltanessetta, che è un territorio praticamente devastato. Se noi giriamo campagna e campagna vediamo che ci sono molti montagni di rifiuti speciali, tossici, pericolosi, che noi queste cose le controllavamo giornalmente, quotidianamente. Una figura importante quindi anche in vista di alcune politiche che stanno per essere avviate nel nostro territorio. Sì, allora io so che praticamente c'è una nuova finanziaria dove questa finanziaria stanno facendo per il ripopolamento del coniglio. Sì, giusto è quello che sta facendo la politica per i cacciatori perché i cacciatori pagano le tasse regionali, governative, l'ATC, l'ambito territoriale di caccia, le assicurazioni. Però è giusto anche che ci sia un controllo perché non ha senso tutto questo. Se uno fa un ripopolamento dei conigli il braconaggio è elevato in tutta la Sicilia e si sa benissimo che tutte le varie province hanno la polizia provinciale ma l'unica provincia che non ha la polizia provinciale e addirittura non ha neanche le guardie venatorie ambientaliste è quella di Caltanissetta. Quindi non ha senso fare questo ripopolamento se non c'è un dettagliato controllo. Qual è dunque l'appello che vuole lanciare a nome delle 25 guardie venatorie rimaste senza lavoro? Io dico a questi onorevoli per favore, con cuore in mano, di ridatici il lavoro, di ridatici la dignità e soprattutto anche al territorio regionale di Caltanissetta che è una bellissima provincia. Gela riscopre un altro figlio illustre, eroe della seconda guerra mondiale. Si tratta di Giuseppe Valenti che perse la vita in Spagna l'11 marzo 1937 mentre si lanciava all'assalto delle forze nemiche un gesto che gli valse la medaglia d'oro e negli anni 50 l'intitolazione di una via del villaggio Aldisio. Poi il suo nome cadde nell'oblio fino a quando le ricerche dello storico Nuccio Muleno lo hanno riportato alla luce. In relazione a una serie di ricerche sulla seconda guerra mondiale qualche anno fa ho ritrovato sul libro dello scrittore Francesco Savà dottore Francesco Savà un nominativo che mi sembrava strano perché non si sapeva nulla ed era Giuseppe Valenti e ho fatto le comunicazioni di rito alle istituzioni ma non è successo niente ultimamente però nell'ambliare questa mia ricerca ho scoperto pure che a Gela casualmente aveva un parente questo Giuseppe Valenti ed è l'attuale luogotenente Nicolo Bulone comandante della stazione dei Carabinieri di Gela che cortesemente ha fatto in modo di farmi avere la documentazione originale sia per quanto riguarda il diploma dell'esercito spagnolo con la medaglia d'oro cioè dove si attesta che aveva avuto una medaglia d'oro e altre documentazioni riferibili alla vita di questo suo parente. Nei prossimi mesi sarà inoltre organizzata una cerimonia commemorativa a cura dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Gela alla quale prenderanno parte i discendenti di Valenti. Il luogotenente maresciallo Resciniti in pensione che ha preso a cuore la situazione e quindi come associazione d'arma di Carabinieri in pensione vorrebbe diciamo così fare una manifestazione a ulteriore ricordo di questo milite gelese. Purtroppo nel caso di questo Valente è successo che l'amministrazione comunale degli anni 50 lo conosceva tant'è che gli dedicò una via al villaggio al Disio. Poi per più di 60 anni è stato completamente dimenticato tant'è che fino a qualche mese fa il suo nome non compariva nella stele di Piazza Marti della Libertà che si riferisce alle medaglie d'oro. Donati due canestri da basket al quartiere Settefarine la piazzetta della chiesa San Sebastiano potrà essere utilizzata dai ragazzi della zona e da tutti gli appassionati di sport per giocare a pallacanestro. Due cestini infatti sono stati installati nell'area adiacente alla parrocchia. L'iniziativa è stata promossa dalla sezione locale del Lions Club. Questo è un progetto che si inquadra in un più ampio progetto a livello regionale cento piazze nello sport. I club per tutta la Sicilia hanno pensato di installare queste strutture sportive che va al di là della semplice donazione ma vuole essere un modo per dimostrare come i Lions vogliono stare accanto alla gente facendo delle cose spesso talvolta anche utili. Continuiamo su questo percorso perché il nostro motto è servire servire e dimostrare con l'azione quello che è il nostro intento stare vicino ai bisognosi. Questo è il primo passo che noi a quest'anno abbiamo affrontato questa tematica del We Serve che è lo sport come vicolo dei valori e abbiamo già cominciato a installare questi due canestri oggi altri due saranno installati all'Ettore Romagnoli e altri due ancora sono in via di destinazione questo è proprio per rendere incisiva la nostra azione sul territorio. Questo quartiere sapete benissimo che è carente di strutture sportive i nostri giovani non hanno un punto dove andare a sviluppare le proprie vocalità sportive stiamo cercando di ottenere quanto più possibile ma ottenere quello che ci spetta di diritto avere un oratorio dove i nostri giovani i nostri ragazzi possono crescere veramente sani nello sport e nell'amore verso gli altri. Il valore è grande grazie a Lions oggi abbiamo questi doni questi doni che penso debbano convogliare risorse e forze che altrimenti magari potrebbero convoluire in altre vie che non sono sicuramente vie buone e allora ringrazio tutti quelli che danno un'attenzione osservano il territorio e stiamo aspettando tante altre situazioni per il bene loro in fondo per il bene loro per il bene delle famiglie che si possono sentire accolti amati perché le nostre parrocchie come dice Papa Francesco oltre a essere campi ospedali di campo veramente devono essere quelle case che aprono il cuore non solo la porta della chiesa ma soprattutto la porta del cuore l'accoglienza la carità l'amore il circolo Salvini della Lega di Gela si riaffida ad Antonio Giudice l'imprenditore tra i primi a scegliere Salvini e la Lega candidandosi a sindaco alle amministrative di tre anni fa è stato eletto alla guida del circolo cittadino per acclamazione qualche settimana dietro il deputato nazionale Alessandro Pagano aveva deciso per il commissariamento dell'intero partito mettendo da parte proprio giudice i militanti storici adesso l'ex candidato a sindaco riottiene il riconoscimento dei leghisti locali e riprende il timone io sono un semplice militante sono stato acclamato dalla base simpatizzanti amici storici comunque della Lega affinché il mio percorso di coordinatore leghista qui in città ex candidato sindaco affinché il coordinamento venga dato a me loro vogliono me come coordinatore ma non sono stato nominato segretario ovviamente questo aspetto di riordinare riassettare il partito in Sicilia rispetto al senatore Candiani che è stato nominato da Matteo Salvini che cosa porterebbe avanti se fosse nominato coordinatore territoriale porteremo avanti le battaglie per il territorio che abbiamo sempre portato avanti non dimentichiamo che in questi quattro anni mi sono speso per il territorio ho fatto le mie manifestazioni i miei banchetti eravamo in mezzo siamo stati eravamo in mezzo alla gente a livello locale vedremo vedremo anche quello che succederà in seno al Consiglio Comunale è ovvio che è sempre ribadito che questa giunta è stata sfiduciata non dai partiti ma dai cittadini gelesi che sono stanchi di subire le angherie di questa giunta di susseguirsi di amministratori nominati da Messinese che puntualmente si dimettono o vengono messi alla porta portando la città di Gela è uno stallo totale come l'ha fatta sentire questa sorta di approvazione? felice felice che i militanti storici mi abbiano acclamato è ovvio che devo tutto quanto a loro questi quattro anni loro mi hanno appoggiato io sono stato soltanto ho fatto solo la mia parte come coordinatore e basta Gela dovrebbe avere ben sette autobus urbani e uno in più per il trasporto dei disabili ma ad oggi il servizio è decisamente carente e inadeguato alle esigenze della città la denuncia è dei consiglieri comunali Sara Cavallo Crocifisso Napolitano Salvatore Scerra e Salvatore Sammito firmatari di un'interrogazione indirizzata alla giunta comunale è necessario offrire un servizio di trasporto adeguato ai nostri concittadini nasce l'esigenza di dotare la città di un numero sufficiente di pullman dovrebbero essere otto ne abbiamo solo quattro quindi c'è una carenza di quattro pullman da lì dopo aver sentito l'ingegnere Figuccia della direzione generale dell'Aste insieme all'assessore regionale della viabilità che si è detto disponibile ad interloquire con l'amministrazione per risolvere il problema sui pullman in città nasce l'esigenza di questa interrogazione da fare al nostro comune da che cosa dipende questa carenza di mezzi? allora da quello che so il direttore generale dell'Aste sottolinea la mancante di mezzo sul fatto che sono in perdita loro gestiscono 14 comune della regione siciliana compresa il nostro compresa il nostro sono in perdita per quanto riguarda le entrate ragion per cui sono abbastanza disinteressati e allora mi viene da dire se così è facciamo in modo che la gestione venga fatta direttamente dal comune c'è un capitolo chiamato trasporto pubblico la regione siciliana dà al comune di Gela i soldi necessari per gestire il trasporto pubblico in città si fa una gara con i professionisti del settore che sono da noi e così facciamo la gestione diretta di questi servizi l'aste se ne tira fuori e noi sopravviveremo lo stesso oltre ad essere pochi sono anche non fruibili da disabili passeggini e persone con difficoltà alla deambulazione ecco un dato dolente di questo trasporto urbano è seppur che non solo sono insufficienti ma non sono nemmeno utili a gran parte della popolazione lei ha citato benissimo i disabili tant'è vero che nella richiesta che abbiamo formulato chiediamo con forza che uno dei pullman sia dotato per il trasporto di disabili e donne col passeggino perché ci sono gradine abbastanza alti e sicuramente non vengono ben utilizzati da questa fetta di cittadinanza che usa i mezzi pubblici per muoversi asma rinite dermatite congiuntivite per molte persone sono sinonimo di bella stagione le fioriture infatti da marzo fino all'inizio dell'estate provocano alcuni disturbi ai soggetti allergici che non possono godere appieno delle calde soleggiate giornate all'aperto durante la primavera eppure esistono dei rimedi per attenuare i sintomi e affrontare i mesi in cui le allergie si manifestano nelle loro diverse forme nel nostro territorio in primavera sono sicuramente le graminace la parietaria maggio e giugno l'ulivo ma anche le composite quindi quelli che noi chiamiamo le margherite il soffione da noi incidono parecchio e il periodo di impollinazione va sempre da marzo a fine estate anche si prolunga verso settembre io consiglio sempre di rivolgersi al proprio medico curante che è in grado di orientare bene il proprio paziente perché lo conosce bene in ogni caso i sintomi che vanno subito curati sono la rinita la congiuntivite e anche la dermatite non sottovalutiamo l'asma si devono usare gli antistaminici gli antileocotrenici i cortisonici se necessario i broncodilatatori e perché no a volta in forma preventiva anche i cromoni la maniera più efficace per combattere le allergie rimarrebbe il vaccino il compito del medico è anche quello non soltanto di educare il paziente ma spiegare accuratamente perché bisogna intraprendere una terapia immunomodulante perché la vera terapia è il cosiddetto vaccino in quanto cambia la storia clinica del paziente il suo assetto immunologico e previene tutte le complicanze c'è una predisposizione sicuramente familiare poi si diventa allergici in ogni caso i primi sindomi magari vengono sottovalutati per esempio ci sono delle forme che sembrano soltanto un semplice raffreddore perché magari ci sono gli sbalzi di temperatura ma in realtà è già un'allergia in ogni caso principalmente bisogna educare il paziente sensibilizzarlo e spiegargli quali sono le sostanze nocive per lui evitare che si esponca molto al polline e di conseguenza indirizzarlo verso la giusta terapia e verso il vaccino una cosa molto importante è che anche le guide la nostra guida aria ci invita a non sottovalutare la rinite persistente e indagare sempre l'asma nello stesso paziente così come il soggetto asmatico deve essere sempre valutato anche per un problema di rinite appunto perché la vera terapia è la vaccinoterapia approvata la finanziaria alla regione alcuni punti sono di grande interesse anche per Gela ovvero una percentuale che potrà andare ai musei del territorio e un milione di euro di investimento per il reparto di oncologia questa finanziaria è stata una battaglia ci aspettavamo molto molto di più dal presidente Musumeci e dal suo governo nonostante ciò siamo riusciti ad inserire delle norme di buonsenso come quella appunto di dare di destinare 3 milioni di euro alle città e gli ospedali che sono esposti a livello ambientale parlo di Gela Priolo Milazzo e devo dire che per ottenere questo abbiamo fatto le nottate in commissione in commissione e bilancio e siamo riusciti grazie ai colleghi Zito e Pasqua ad inserire questo emendamento che porterà è una piccola goccia di certo non salverà il nostro ospedale ma sicuramente porterà un qualcosa in più al nostro territorio e siamo contenti che il PD ha appoggiato questa nostra iniziativa e questa nostra battaglia sono altri gli emendamenti che ulteriori che sono passati grazie al lavoro fatto dal Movimento 5 Stelle come ad esempio il fatto che il 20% di circa 13 milioni di euro che incassa annualmente l'assessorato regionale e beni culturali verrà ridistribuito ai musei quindi ci sarà una quota parte anche per il museo di Gela che utilizzerà quelle cifre per la manutenzione ordinaria e straordinaria siamo riusciti anche a fare lo sblocco a concorsi per quanto riguarda l'ARPA che è l'agenzia che va a monitorare l'ambiente all'interno della regione siciliana di modo tale da fare concorsi con professionalità come biologi o ingegneri ambientali attenzione tutto questo può essere un libro dei sogni infatti noi poi alla fine la finanziaria l'abbiamo votata in modo non favorevole proprio perché non è una finanziaria certa non è una finanziaria che dall'obiettivo mette i soldi con certezza e quindi sono tutte cose un po' al momento campate in area noi andremo a monitorare passo passo da qui al prossimo futuro affinché le cose di buon senso inserite all'interno della finanziaria possano essere realizzate grazie a tutti Grazie a tutti.